Il mio contributo ha per titolo sulla differenza ontologica come evento, sapere ciò che non è. Il tema della differenza ontologica è un tema classico nella filosofia del Novecento, a partire da Heidegger ha avuto una risonanza enorme, anche ossessiva in alcune filosofie. L'espressione invece sapere ciò che non è traduce in qualche modo l'espressione che troviamo a e questo avrà un significato perché tenteremo innanzitutto di mostrare come il sapere di ciò che non è inizia a essere definito e posto in modo tematico a partire da Platone in poi e questo avrà un riverbero, avrà una conseguenza nel modo in cui Heidegger tematizza il problema della differenza e soprattutto nel modo in cui Heidegger cerca di venire fuori dall'impasto di essere eterni. Ora, se potessimo guardare dall'alto l'opera di Martin Heidegger e con una battuta potessimo semplificare ed esprimere nel senso generalissimo, saremmo tentati dal dire che la sua opera potrebbe essere letta come un ininterrotto commento a un'unica proposizione. L'essere non è qualcosa come l'ente. Come è noto questa prima formulazione della differenza tra essere e ente, si trova, guarda caso, in Seinzeit in Essere e Tempo. Heidegger dichiara fin da subito che la sua indefinibilità non dispensa la filosofia dal compito di risollevarsi dalla rimessa in questione del problema del suo senso, il senso dell'essere, ma al contrario proprio la indefinibilità nel render necessaria la ripresa. Tutto il suo cammino di pensiero è un attraversare il concetto di differenza, dal tema dell'Erlebnis nella sua differenza dal teoretico, passando per la distinzione ontico-ontologica del periodo di essere e tempo, fino al tema dell'essere in quanto essere e della differenza ontologica. La prodo e gli sviluppi fecondi, infatti, del tema della differenza ontologica, proprio a partire da questa prematura chiamata in causa, non potranno non essere segnati dalla particolare forma con cui è esplicitata nei testi heideggeriani, con cui è posta, nominata e quindi chiamata in causa e in soccorso. Heidegger è certamente consapevole che si tratta di un'affermazione rischiosa, si presenta in forma negativa. Soggetto, copula e predicato sono variazioni dell'unico verbo essere. Questa difficoltà però non sarà improduttiva, fornirà in qualche modo un limite, ma al tempo stesso anche una risorsa, allora quando il fallimento di essere e tempo condurrà alla svolta la cosiddetta care e lì quella difficoltà aprirà, per così dire, la via. Una via senza prodo, come Heidegger ci ha insegnato, e tuttavia uno sviamento, uno sviamento da quell'impasse dell'analitica del taser. Ora questa formulazione, l'essere non è qualcosa come lente, è un legame, un vincolo di quella tradizione che si è data al nome di storia del pensiero occidentale, storia della metafisica, storia di una metafisica che è da subito connessa e riportata a evidenza dalla formula l'essere non è qualcosa come lente. Quella negazione è un ponte, ci porta nelle pieghe di una scena oltremodo nota e altrettanto decisiva negli sviluppi che renderà possibili. È una scena concettuale esposta, come sappiamo, a partire dal teeteto di Platone. Come sappiamo, Socrate esprime un pazzos che il pensare cose false, le cose che non sono, ta, me, onta, gli provoca. Le cose che non sono, quindi per Socrate, provocano un turbamento, non un'acrobazia del pensiero, ma un turbamento in cui evidentemente il pensiero è coinvolto. L'impossibilità di pensare ciò che non è e che non può essere e quindi di tale portata è un turbamento, un pazzos che produce una puria, che peraltro, come sappiamo, nel teeteto non viene risolta, ma che prepara la soluzione offerta nel sofista. L'argomentazione è esposta in questi termini. Opinare il falso vuol dire essere convinti di cose che non sono, se non che, afferma Socrate, chi è convinto di ciò che non è è convinto di niente e quindi niente opina e chi niente opina non opina in nessun modo. Quindi potremmo affermare che questo opinare è un non essere convinti, un non opinare. Riverbera qui il concetto secondo cui tutte le opinioni vere sono, meglio, tutte le opinioni sono vere perché pensare il falso non è possibile. Allora, questa distinzione tra il non ente in quanto riferito agli enti e il non ente in sé per sé anticipa la distinzione, come abbiamo detto, che Platone acquisisce nel sofistio tra il non ente in quanto diverso, lo eteron, dell'ente, e il non ente in quanto contrario in senso assoluto, il nulla assoluto. Il pensiero del negativo, il pensiero della negazione, del nulla come assoluta negazione dell'ente nella sua totalità è qui definitivamente posto. Allora, quando Heidegger scrive, l'essere non è. Lavora o non è la fenditura di identità e differenza inscritta in questa scena? E quando addiverrà a una precisazione della differenza, oltre la distinzione in cui il non della differenza non sarà il nulla assoluto, avrà a che fare o no con la tradizione dialettica del negativo. Il passo platonico mostra come la filosofia lavora da sempre in questi passaggi ed è chiaro che Heidegger in questo non sia stato affatto originale. Ora, nella prima e iniziale esposizione del problema da parte di Heidegger c'è sicuramente la volontà di mettere in questione anche e soprattutto il tema dell'essere a partire dal suo primato ontico, anch'esso chiamato per via in diretta attraverso il Dasein. È il terreno dell'analitica. In sign insight, in essere tempo, questo privilegio non è attenuato. La funzione chiave dell'esserci che è aperto al proprio essere è l'esplicito oggetto a quo di questa domanda. Tuttavia il problema è posto. Heidegger non giunge a una formulazione piena della differenza in sign insight, ma al di là delle diverse spie linguistiche disseminate per tutto il suo lavoro filosofico, non appare abusivo ritenere che il problema del differire, il problema del differimento, sia il perno su cui ruota tutto il lavoro filosofico di Heidegger. Di fatto, nonostante la dovuta prudenza, riteniamo che questo costituisca il tessuto carsico di ogni sviamento interno ed esterno alla sua proposta filosofica. Di fatto la differenza ontologica è ciò che viene consegnato, è ciò che ha scosso il pensiero filosofico del Novecento ed è ciò che ancora smuove, soprattutto nei tentativi di rimozione e di superamento. Tutte le revisioni della differenza ontologica, infatti, tutti i suoi epigoni, tutte le forme di sbarramento e di scarico per reiterata ossessione fanno parte di quella consegna, sono per così dire in quella consegna. Una consegna che, peraltro, non è di Heidegger, è la tradizione del negativo, se così possiamo chiamarla, ed è lo stesso svolgimento del pensiero da Platone in poi. Ora, come sappiamo, in Essere e Tempo compare l'espressione ontologischer unterscheid, non compare l'espressione differenz, compare l'espressione unterscheid. E qui Heidegger usa il termine quindi distinzione. Tale preferenza ha a che fare con il contrassegno ontico di cui abbiamo accennato, con cui viene sollevato il problema ontologico. Il che non è un semplice rilievo lessicale, è qualcosa che esprime proprio il peculiare carattere dell'essere dell'esserci. Allude al suo differenziarsi dagli enti intramondani che hanno un modo di essere difforme dal suo e che si avvicinano in quanto utilizzabili. Il punto di partenza della problematica ontologica dice Heidegger, infatti, è qualcosa verso la quale la filosofia non può acquietarsi. Nei corsi successivi, e con quelli coevi comunque a essere tempo, mi riferisco al corso universitario del semestre estivo del 1927 intitolato di Grundprobleme der Fenomenologie, si richiama, non a caso, l'attenzione al concetto di differenza. Proprio in questo corso di lezioni scriverà Heidegger questo concetto conosciuto alla sua prima pubblica comunicazione. Non è senza significato, tutti gli studiosi lo rilevano, che Heidegger anche in una nota di von Besen des Grundes rileverà in una nota come in questi corsi inizia a mettersi a tema in modo definitivo il problema della differenza ontologica, che in questa nominazione, cioè nella nominazione di Differenz, inizia a farsi largo nella proposta, nella teoria filosofica heideggeriana. Ora, qui il centro della discussione nei Grundprobleme si muove intorno alla determinazione della finitezza dell'essere, ci come comprensione dell'essere nell'orizzonte trascendentale del tempo, partendo però dalla messa a tema delle quattro tradizionali tesi sull'essere, quella di Kant, per cui l'esistenza non è un predicato reale, quella dell'ontologia medievale, quella che distingue la res extensa dalla res cogitas, e quella della logica per cui tutti gli enti si lasciano caratterizzare mediante la copula che articola nella proposizione il rapporto tra soggetto e oggetto. Per Heidegger la differenza ontologica è l'impensato di ciascuna di queste tesi e rappresenta il filo conduttore di quella che lui chiamerà destruction, cioè la distruzione della storia dell'ontologia. Scrive Heidegger nei Grundprobleme, cito, quando ci si chiede che cosa è l'ente in quanto essente, l'essere viene preso per un ente, tuttavia, anche se interpretato in modo in maniera inadeguata, esso diviene un problema. L'esserci conosce in qualche modo qualcosa come l'essere. L'esserci in quanto esiste, comprende l'essere e si rapporta all'ente. Allora, questo passaggio, come sappiamo, è piuttosto ambiguo, soprattutto in relazione al comprendere, che proprio in Sainunzeit assume un carattere ontologico. A nostro avviso può essere letto come un rafforzativo del fatto che se la distinzione è pensata nell'ordine esclusivo dell'ontico, allora lì, propriamente, non accade una comprensione dell'essere, secondo Heidegger. Accade bensì un distinguere, un distinguere che non rende conto né dell'essere né dell'essere dell'esserci e quindi non rende conto della loro esistenza, della sua esistenza, dell'esistenza del Dase. Del resto tutto il lavoro del rivolgimento della fenomenologia non potrebbe a questo punto ricondurre Heidegger, se non crea una costituzione dell'essere dell'ente, come dato vissuto di coscienza. Se si pensasse attraverso la distinzione, Heidegger sarebbe ricondotto a questo, che è esattamente ciò per cui Heidegger contrappone il rivolgimento del fenomenologico. Ora, non è un caso che la scelta del neutro, Dasein, la scelta di nominare l'esserci in questa forma, non si allontana da una certa volontà di depotenziamento dell'esserci. È un depotenziare che farà del Dasein un luogo privilegiato, ma non, vedremo più avanti, il luogo di una manifestazione, di una semplice manifestazione dell'essere. Forse ne farà l'indicazione di quel C, di quell'esser C, in cui si attua una differenziazione, in cui sono l'uno e l'altro, in cui l'uno è senza l'altro, dovremmo dire. Come sappiamo a partire dal 1936, che Heidegger mette definitivamente in questione la differenza ontologica, si discosta dall'impostazione precedente e determina la tematizzazione della differenza per via negativa. L'essere non è l'ente. Il pensiero che da qui non cambierà più traiettoria è ora sotto l'insegna di una riflessione a partire da questa negazione, il non dell'ente, cioè l'essere. E cioè ciò che afferma la differenza ontologica è il non tranne l'ente e l'essere. È legittimo pensare che la differenza ontologica non possa che essere l'inevitabile portato del sentiero interrotto dell'ontologia di essere tempo. E forse anche il significato della svolta ha a a che fare proprio con questo passaggio, dallo unterschied, dalla distinzione alla differenza. E non a caso Heidegger lega all'uno la zeitlichkeit e alla seconda la temporalität, che sono due dimensioni differenti dell'accadere del temporalizzarsi. Ora il termine differenza ha peraltro una propria fecondità, per così dire, interna, che gli deriva dal suo carico concettuale a cui allude e la scelta non è casuale, perché è calibrata sia dall'esaurirsi del tema ontico-ontologico del concetto di distinzione, sia dalla via intrapresa definitivamente dalla svolta. Per l'altro contesto non è senza significato, per altre finalità, Jacques Derrida fa notare come il termine di origine latina, differenza, non sia il semplice calco del greco di affereine. Il differre, latino, ha infatti a che fare con il temporeggiamento, con il prendere tempo. E questo, anche nello schema heideggeriano, non sarà senza conseguenze. Il piano ontico-ontologico è ora rimesso alla verità dell'essere, che in quel non risuona e faccendo in un modo che la verità ontica e la verità ontologica concernono in modo diverso l'ente nel suo essere e l'essere dell'ente. citazione di Heidegger da Von Wesen des Guindes. Ora, è significativo che Heidegger dichiari espressamente che l'impostazione per cui l'essenza della verità è pensata come biforcata, gegabelt, biforcata divisa in due, in ontica e ontologica, dove quest'ultima sarebbe lo svelamento della prima, è una logica che segnala l'oltrepassamento della metafisica, ma non lo fonda e soprattutto, dice Heidegger, non lo attua. Pensare la verità dell'essere come gegabelt e come biforcata indica una via, ma non fonda e non attua soprattutto. Il superamento della metafisica. Evidentemente, il superamento della metafisica, per Heidegger avviene, accade per un'altra via. Di fatto, quando Heidegger rivedrà questi passaggi, dirà a se stesso di essere stato fin troppo platonico in questi passaggi. Quella che qui abbiamo chiamato in causa, infatti, come tradizione del negativo, è quella via per la quale ciò che accade è sempre in compagnia del segreto, per cui il non essere di A, di B, concorre all'identità di A. Cosa si vuol dire qua? È quella logica per la quale il negativo di B indica la A. È la tradizione dialettica del negativo. Non è nient'altro che la tradizione di identità e differenza. È la tradizione, è il solco in cui Heidegger sta pienamente con tutta la sua proposta filosofia. Ora, se l'ontologia fondamentale di essere tempo si è dimostrata inadeguata a porre il problema dell'essere, della verità dell'essere, non pensata come biforcata, quindi come Ghegabelt e come due dimensioni differenti di cui la prima andrebbe in secondo piano rispetto all'evidenza dell'oggettualità tematica, che sarebbe lente, Heidegger compie un passo in avanti nella nella svolta e tenta una via per la quale questa logica dovrà essere abbandonata. La tematizzazione di questo abbandono è l'operazione più complessa per quanto riguarda Heidegger perché è l'operazione più complicata per il pensiero. E non è un caso che abbandonando questa logica Heidegger tematizzi e ritorni sul sentiero della spola essere nulla, essere niente. La formulazione della differenza ontologica tra essere e ente porta Heidegger a guardare in faccia il problema essere nulla, essere niente e quindi in qualche modo ritorna in quella scena che abbiamo individuato a partire da Platone. È qui che emerge appunto questa distinzione del nulla e del niente inteso come non ente e come nulla assoluto. Heidegger insiste dalla svolta in poi su queste tematiche e vede a dire questa cosa che nella nostra lingua italiana abbiamo anche una relativa fortuna perché possiamo dire il niente e il nulla con due parole differenti, mentre il tedesco ne ha soltanto una per dire il niente e il nulla, che è das nicht. Noi abbiamo invece il niente inteso come non ente, facciamo questa operazione per segnalare il non dell'ente e il nulla, che Heidegger differenzia dal niente chiamandolo come nil negativo, utilizza una forma latina per identificarlo, per chiamarlo in causa come nulla assoluto. Heidegger lo chiama anche come etwas nichtiges, qualcosa di nullo nel negativo. In il nichilismo europeo, che è una serie di prolusioni tra il 38, 1938 e il 1940, Heidegger scrive in un importante e molto noto passaggio quanto segue, cito, il niente non significa qui una particolare negazione, ferneinung, dire no, di un singolo ente, ma la negazione incondizionata e totale di tutto ciò che è, dell'ente nel suo insieme. Ma allora il niente in quanto negazione di tutto ciò che è, è oggetto e non è più a sua volta un oggetto possibile. Discorrere del niente e pensare sul niente risultano allora un proponimento senza oggetto, un vuoto gioco di parole, un gioco che non sembra accorgersi di fare continuamente a pugni con se stesso. E qua Heidegger scrive sich selbst vor gesetz in gesicht schlägt, un fare a pugni con se stesso, colpirsi il volto. Già che qualsiasi cosa stabilisca sul niente deve sempre dire il niente è questo o quest'altro. Perfino se diciamo il niente è, continua Heidegger, diciamo evidentemente di esso una è, cioè lo facciamo diventare un ente. Da questo passo ricaviamo almeno una cosa. Se si pensa al niente come negazione della totalità dell'essente ci si contraddice, ci si colpisce al volto perché gli attribuiamo ciò che gli deve essere negato. Quindi se l'essere non è l'ente e il niente è il ni ente, cioè il non ente, il niente come nin negativum conduce il pensiero a contraddirsi. Lo ripetiamo, il niente pensato come negazione di tutto l'essente, come nulla assoluto, come opposizione alla totalità dell'essente risulta impossibile poiché lo chiamerebbe in causa come ciò a cui si oppone, ovvero come essente. Quindi è possibile, dobbiamo chiederci, pensare il niente senza colpirsi al volto, come ci ha indicato Heidegger? Sì, se non lo si pensa come negazione assoluta. E qua ritorna ancora il sofista di Platone. Se non lo si pensa come negazione assoluta, è possibile pensare il nulla assoluto, dice Heidegger. E' proprio in questo che il concetto di differenza che Heidegger sviluppa, da qui in poi, aiuta a uscire da questo impasse. L'impasse in cui in qualche modo da Platone a Hegel la filosofia è rimasta in qualche modo incagliata. Ora proviamo una sequenza assertiva che ci aiuta a declinare come Heidegger ha tentato di pensare la differenza per uscire da questa impasse. Proviamo una sequenza assertiva di questo tipo. L'essere non è l'ente. Il niente è il non-ente. L'essere e il niente sono lo stesso come differenza dall'ente. L'essere e il niente sono sempre lì dove l'ente è nella differenza dall'essere e dal niente. Il niente allora non è negazione assoluta dell'ente. Il niente è l'essere come differenza dall'ente. Come vediamo la linea di tensione che attraversa la questione essere niente, essere nulla, è complessa e anche aporetica. Lo è soprattutto nel pensiero heideggeriano, anche perché del resto è ciò che impegna il pensiero filosofico da sempre. Da questo punto di vista cercheremo di essere chiari. Quando si argomenta in questo modo, si dichiara di muoversi all'interno della logica di identità e di non contraddizione. E seguendo queste coerenze, le coerenze di questo criterio perlomeno, potremmo domandarci se per pensare nulla si debba a rigore uscire dalla logica di identità e non contraddizione. Ma a questo punto dovremmo chiederci cosa significherebbe uscire da questa logica per non incorrere in quello che Heidegger chiama un vuoto gioco di parole o un colpirsi al volto? O più semplicemente, uscire da questa logica ci conduce a contraddirci? Una tale pretesa, cioè uscire dal criterio della non contraddizione, andando oltre il suo principio, non equivarrebbe in qualche modo consegnarsi alla contraddizione? Lo riformulo. Uscire dal criterio della non contraddizione per tentare di pensare nulla assoluto, che non è pensabile nella logica della non contraddizione, e uscire da questo criterio non equivarrebbe a consegnarsi alla contraddizione stessa? Vi è in Italia una grande tradizione che è quella di Emanuele Severino, che ha lavorato con precisione e ossessione in questo solco. Ultimamente anche la Cusano, una acuta studiosa, ha scritto un bellissimo saggio su questo, dove peraltro, distanziandosi anche da Severino, rileva come in realtà se l'essere e il niente sono lo stesso e non sono nulla assoluto, allora l'essere e l'apparire, allora secondo la Cusano, Heidegger in questo riprende il fenomenologico puro. Questo sarebbe in realtà l'argomento per il quale in Heidegger vive continuamente ciò da cui Heidegger ha tentato di distanziarsi, di prendere definitivamente le distanze, che è il fenomenologico. Ora, ritornando ad Heidegger, che per un passo in alcuni testi come in Vasismes Metafisiche o in Echilismo Europeo, tocca questo argomento che definiamo l'argomento logico per brevità, Heidegger non è interessato però a questo argomento perché ritiene che questo sia una via in cui il pensiero formula la differenza ontologica in modo astratto. È interessato a percorrere una diversa via ed è una via per la quale formulerà in modo decisamente aporetico, decisamente oscuro, il tema dell'essere che si dà in una duplicità in cui la differenza non è più la distinzione tra due oggetti determinati, tra due oggetti del pensiero, tra l'accadere di due cose, ma è il darsi di un evento che diventa duplice, una unicità duale potremmo dire, e lo fa passando per il problema del niente. Heidegger è chiaro che nel lasciarsi alle spalle tutto questo problema tenta di non perdere nell'ente e nella sua enticità, nell'essere dell'ente e nella loro differenza. E per questo utilizza l'espressione differenz, differre, in cui c'è il temporeggiamento, c'è la zeitlichkeit, c'è più che altro la temporalità. Ora, abbiamo visto come il non-ente e il nulla assoluto come opposizione, non sono la stessa cosa. E questo scarto non costituisce, abbiamo visto, il rapporto di due momenti distinti, ma è ciò che Heidegger chiama differenziazione. Il darsi dell'essere è, come nientificazione attraverso il niente, differenziazione. Una differenziazione che non separa, e questo l'aspetto fondamentale della svolta in Heidegger, è una differenziazione che non separa. Heidegger infatti usa l'espressione Austrag, che traduciamo con deferimento, per chiarire questo aspetto della differenza che in realtà non differisce, non separa, non distingue, ma si dà in una unicità duale. Da questo punto di vista, a nostro parere, ha ben detto la Zarader, quando rileva che per lo Heidegger della svolta, pensare alla differenza non è affatto limitarsi a distinguere l'uno dall'altro, ma è cogliere nella luce di un unico sguardo che, sebbene l'essere sia l'altro da un niente, significa sempre e ovunque essere dell'essente così come essente significa sempre essente dell'essere. In introduzione alla metafisica, Heidegger chiarisce, non in modo definitivo, ma introduce una via. E qua spediamo la linea interpretativa di uno studioso, di un filosofo italiano, Pierpaolo Ciccarelli, il quale ha proposto una traduzione, una nuova sfumatura linguistica che ci consente di dire una cosa precisa però su Heidegger. In Metaphysique Heidegger scrive, cito, l'essente e il suo essere sono la stessa cosa? In che cosa consiste le loro differenze? Cos'è per esempio questo pezzo di gesso? L'essente, das seiende? Già la domanda è di per sé ambigua, in quanto la parola essente può assumere due significati. Come in greco, il ton, l'ente significa innanzitutto ciò che è nei singoli casi. E l'essente, zaiende? Nel caso specifico questa massa, grigia chiara, quella del gesso, in forma determinata, leggera, friabile. L'essente significa anche, in secondo luogo però, per così dire, ciò che fa sì che la cosa in questione sia essente, anziché non essente. Ciò che nell'essente, se è un essente, costituisce quindi il suo essere. In conformità di questa doppia significazione, continua Heidegger, del termine essente, il greco ton riveste spesso il secondo significato, indica cioè non l'essente stesso, ciò che è essente, vas seiende ist, ma bensì das seiende. Ora, la maggior parte dei traduttori traduce questo con il fatto d'essere. È una traduzione che va bene, perché esprime il fatto d'essere, ma la sfumatura che rileva Ciccarelli è interessante perché innanzitutto apprendiamo che i due significati di ton sono ens ed esse, ent ed essere, ed è la loro differenza ontologica. Ma apprendiamo una cosa più importante. Apprendiamo che in questo passo, non vi è soltanto la determinazione di ciò che riguarda l'ente nella sua entità e l'indicazione dell'essere, vi è qualcosa di più e si può cogliere da questa sfumatura che si rileva a partire da questa traduzione. Ciccarelli non traduce con fatto d'essere das seiende, ma lo traduce come un gerundio, essendo. Propone quindi una diversa traduzione del sostantivo das seiende, una versione che esprime un senso in significato precisi, traducendolo con un gerundio e quindi das seiende andrebbe letto come essendo. Secondo questa linea, Heidegger conia un sostantivo, il che non sarebbe peraltro niente di nuovo o di inusuale nell'economia del suo lavoro filosofico. Innanzitutto questo sostantivo non esiste nella lingua tedesca. In secondo luogo è ottenuto attraverso una messa in sostantivo del participio presente, seiende, del verbo essere. La teleoperazione è possibile dalla eliminazione della desinenza è das seiende, das seiende, in das seiende, che è ciò che riferisce il participio a qualcosa di determinato. Allora questa nuance linguistica mostra l'uso del participio presente nella funzione di gerundio ed è un rilevo di non poco conto perché riesce a esprimere come il fatto d'essere dell'essente sia un accadere, l'accadimento in cui ciò che è significa l'essendo di quell'essente, quell'unico essente proprio mentre è. È un passaggio questo, una sfumatura che riesce a dare voce all'essere dell'essente proprio mentre è, mentre è quell'ente che dà voce al suo fatto d'essere. Ora Heidegger ha sempre piegato la lingua secondo una funzione interna al proprio voler dire, al proprio voler domandare e in effetti questo strano participio sostantivo gerundio è il tentativo di pronunciare la portata di una differenza che non è distinzione. Tenta di esprimere una differenza che deve rendere conto di un movimento, della differenziazione, ovvero di una differenza che non è una semplice distanza ma è un movimento immanente. Questo è un crinale di estrema delicatezza e Heidegger ne è pienamente consapevole e come abbiamo già rilevato la differenza ontologica impone una considerazione di questo tipo ed emerge, anzi dovremmo dirci che forse va distillata più che emerge, una nuova concettualità da questi rilievi. Una concettualità per la quale la differenza non è la differenza di due ma è il differenziarsi del medesimo che è tale in forza di una duplicità. Due latti dello stesso accadere in cui non si distingue l'uno dall'altro ma sono una simultaneità in cui l'essere si dispiega non nell'ente ma si dispiega come ente. Ecco quest'uso del sostantivo das seiend a modigerundio va letto in questa direzione, cioè nella direzione di voler pronunciare la simultaneità della distanza, la duplicità dell'essere e dell'ente nel loro accadere che è un coaccadere e quindi un ereignis, un accadere in cui l'uno non è mai senza l'altro. Heidegger stesso come sappiamo ripete più volte nel corso del suo lavoro, nel corso della sua opera di differenze zwischen dem sein und dem seinenden, zwischen che letteralmente dovremmo tradurre con il tra, ma in realtà lo zwischen e lo zwei è il due, il due in cui l'uno e l'altro sono dualità. Ora è chiaro che questo modo di usare Heidegger è un tentativo non tanto di fargli dire qualcosa che non ha detto, fargli affermare qualcosa che non ha affermato, ma il tentativo di pensare come l'essere dell'ente, la differenza ontologica, la vastità del darsi dell'essere come evento sia qualcosa in cui Heidegger ha tentato di pronunciare, di affermare non tanto l'andata in secondo piano dell'orizzonte che è la traduzione con cui siamo soliti tradurre, spiegare e dispiegare il pensiero heideggeriano, poiché Heidegger riteneva che lì dove c'è l'ente non può non esserci l'essere, nel senso dell'essere come differenza. L'uno non è mai senza l'altro, altrimenti non vi sarebbe l'accadere, dice Heidegger. È ormai, e vado a concludere, uno stile interpretativo, di tentare di stirare e contrarre il più possibile i concetti heideggeriani per ricavarne nuovi esiti, nuovi rispetto alla terminata produzione che il suo lavoro ha generato, ed è anche in dubbio che il discorso affrontato qui non possa tirarsi fuori da questa tendenza, e però riteniamo che Heidegger abbia sempre tentato di trovare la grammatica filosofica adeguata per affermare che nel fatto d'essere dell'ente, nello esgipte, la differenza non rinvia a un altrimenti, non c'è un altrove che relega l'ente o il Dasein in secondo piano. Quell'altrove non ha luogo, perché è il luogo di un accadimento sempre unico, ed è sempre lì dove l'ente è. È una conferenza di una duplicità. Questi sono i temi che nei baitreghe, sulla filosofia, nei contributi, saranno determinati e che determineranno in maniera precisa la nozione di evento. E come sappiamo, evento, ereignis, significa accadimento, noi lo traduciamo come evento, accadimento, occorrenza, è espressione del verbo ereignen sich, accadere, avvenire. Tuttavia però per comprendere nella portata, per farla risuonare in esso, per far risuonare in esso la dimensione dello eigen, del proprio, come essenza dell'eignen, dell'appartenere a, per farla risuonare dobbiamo capire che la traduzione di evento, dobbiamo essere consapevoli, è una traduzione parziale in cui non risuona tutta l'ampiezza concettuale che vi è dentro questa parola. Ma cosa afferma ereignis in fondo? Cosa esprime? Potremmo dire che afferma la differenza stessa. Anzi, la differenza stessa è l'evento. Perché? Perché è un accadere, cioè un accadimento in cui simultaneamente l'essere, il suo differire come non-ente, il niente come nientificare, l'ente in quanto fatto d'essere, in quanto essendo, das, zayend, non sono nulla, ma bensì il raccoglimento di questo essere-tempo. L'essere non è l'ente. L'uno e l'altro sono il racconto che chiamiamo evento, dice Heidegger. Per cui lo ereignis non è soltanto ciò che porta con sé i lati della duplicità, ma li mantiene nella loro reciproca coappartenenza, nella loro simultaneità. Appropriazione è pertanto il concetto cardine della differenza ontologica come evento. Ed è a questo punto anche il concetto che esprime in modo principio il concetto di differenza. La differenza ontologica è quindi l'evento appropriante e il nome incerto e sempre in bilico con cui chiamiamo il darsi dell'essere nel suo differire dall'ente. E nella logica di Heidegger, o meglio, nella logica che Heidegger ha sviluppato, siamo così guidati, condotti, per così dire, a dichiarare che l'essere differisce dall'ente perché il niente, il non-ente, in cui il pensiero si sa in un certo sapere di ciò che non è. Grazie per l'attenzione.